Ciao, Cyrus! Ehi, è avanzato qualche gamberetto fritto per me? Non lo so, chi può dirlo? Sto solo riflettendo. Senta, Professor Bunn, non sarebbe il caso che la smettesse. Lei si sta dando troppa pena per me e invece dovrebbe cominciare a pensare a come trasferirsi nell'aldilà. Uno spirito che non vuole varcare il confine è più unico che è raro. Un cellulare. Che razza di scherzo è mai questo? Davvero, dici sul serio? Dunque, sarebbe lui. Tu ribolato, ti riferivi a questo tizio? Ora vedi di stare indietro. Ci penseremo dopo alle presentazioni. Non nasconderti come un ladro! Fatti vedere! Affrontami in duello, sei coraggio. Ho poteri misteriosi, non sono un umano qualunque. Per questa ragione, so riconoscere i brutti ceffi come te che sanno solamente giocare sporco. Eh già, preferirei mille volte non vedere mai più la luce del sole, piuttosto che schierarmi con te. Sono spiacente, ma l'unico a sparire qui sarai tu. Archetipo oscuro. È una carta che non avevo mai sentito prima. Non importa, evoca pure chi vuoi. Io continuo ad andare per la mia strada. Ora è il mio turno. Posiziono una carta coperta. E evoco la carta a polimerizzazione. Fondo Bubble Man e Evian per dare vita all'eroe elementale, Mariner! Stai sbagliando. La mia strategia non è certo sempliciotta come le tue immagini. Andrò avanti a oltranza. Non mi fermo finché uno di noi non sarà K.O. Magia rapida, defusione! Dopo aver defuso i mostri polimerizzati, chiamo con evocazione speciale i mostri materiale da fusione. In questo turno, non ho ancora effettuato l'evocazione normale che mi spetta. Sacrifico due mostri per chiamare... Questa carta! Neos, eroe elementale, raggiungimi! Vai, Neos! Attaccalo! Non capisco perché ha abbassato i punti di attacco del suo mostro. Scopro la mia carta trappola! Scudo dell'eroe! Se Neos, equipaggiato con scudo dell'eroe, sta per essere sconfitto in battaglia, si salva con questa carta. La manda al cimitero, al posto suo. Oltretutto, per ogni mille punti di danno che ha dovuto subire il giocatore, pesca una carta! Adesso tocca a me! Ti farò rimpiangere di non essere stato capace di sconfiggermi nel tuo turno precedente. E ora attacca! Vai, Neos! Magia terreno, Neospazio attiva! Grazie al potere di Neospazio, Neos otterrà dei punti extra. 500 punti di attacco! E poi gioco la carta magia equipaggiamento Forza Neos. L'attacco di Neos, equipaggiato con la carta Forza Neos, aumenta di 800 punti! Coraggio, vai! Attacca, Neos! E' ora di attivare l'effetto della carta magia Forza Neos! Quando Neos, equipaggiato con Forza Neos, distrugge un mostro... Infliggi all'avversario un danno pari ai punti di attacco del mostro distrutto! Prendi questo! Forza Neos! Che cosa ne pensi? Adesso conosci il suo potere! Si può sapere chi sei? Per quale motivo ti stava dando la caccia? Fujiwara, non mi risulta. Lascia perdere, i tuoi trucchetti con me non attaccano proprio. Yusuke Fujiwara, chi sei veramente parla?